Ciao a tutti ragazzi sono Epitripper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. In questo episodio ragazzi andremo a fare un pochino di esplorazione nel tentativo di trovare possibilmente nuovi materiali tra i quali spero di trovare principalmente i diamanti che sono il mio primo obiettivo di questa spedizione. Tra l'altro ragazzi devo avvisarvi che è uscito un nuovo update per le versioni console di Minecraft però non è un update che introduce chissà quali cose, hanno infatti principalmente tolto alcuni bug che causavano magari qualche errore durante il gioco e hanno praticamente aggiunto delle nuove mappe per i battle minigames che sono ispirate a tema fallout. Comunque ragazzi dobbiamo prenderci il piccone di ferro per andare ad esplorare la spada di ferro quella più danneggiata possibile in maniera tale che con questa andremo a riparare la nostra di spada. Poi prendo anche delle frecce così giusto perché ci potrebbero servire. Per quanto riguarda il cibo dovremmo già essere a posto in quanto ho utilizzato la fornace che vi ho mostrato nello scorso episodio delle risposte alle vostre domande e direi che per quanto riguarda l'esplorazione siamo messi abbastanza bene. Prendo anche le litre visto che le utilizzerò. E comunque ragazzi volevo dirvi l'esplorazione la faremo nella zona che è praticamente dove si trova il villaggio nord di casa mia. Quindi andremo ad esplorare la zona che detta così giusto per farvi capire si trova da questa parte e che onestamente mi sembra molto interessante perché non l'ho mai esplorata a fine e soprattutto vista l'uscita dei nuovi aggiornamenti ultimamente potrebbe essersi venuto a generare qualche nuova struttura che potrebbe anche essere abbastanza interessante e che potrebbe soprattutto contenere diamanti. Tutto questo ragazzi ho intenzione di sfruttare i diamanti che ricaverò da appunto questa esplorazione sempre se ne ricaverò per andare a costruirmi più che altro gli oggetti in diamante in quanto mi avete detto in tanti di andare appunto a costruirmi gli oggetti in diamante perché a vederli di ferro nessun interno non è un granché. Poi so che magari bisognerebbe tenere il diamante per appunto questioni un pochino più importanti ma comunque avere anche dell'equipaggiamento in diamante per semplici e normali esplorazioni potrebbe essere molto molto più utile. Volevo anche dirvi ragazzi una cosa ovvero parlare più che altro di una topic che c'entra con il canale ma non con Minecraft. Ovvero qua è pieno di scheletri intanto. Ragazzi nel video in cui appunto ho risposto alle vostre domande vi ho avvisati di una cosa che potrebbe accadere. qua comunque è la vecchia casa sull'albero che ogni volta che la riguardo non mi piace moltissimo però vabbè magari ne rifarò una in futuro. E ragazzi vi stavo appunto dicendo nel video delle Q&A ovvero nel video dove ho risposto alle vostre domande ho detto che mi sarei preso il Nintendo Switch cosa che onestamente farò sicuramente e me lo prenderò venerdì 3 marzo sempre se effettivamente non l'hanno già concluso e se non l'hanno già finito nello stock del GameStop. E volevo dirvi una cosa ragazzi ovvero che il Nintendo Game Switch avendo la possibilità di registrare come PlayStation 4 e Xbox One lo utilizzerò anche per portarvi i gameplay di The Legend of Zelda Breath of the Wild come serie secondaria sul canale perché onestamente è un gioco che potrebbe assomigliare da un determinato punto di vista a Minecraft in quanto ha un fattore survival. Per quanto riguarda il resto del gioco non c'entra quasi per nulla però onestamente mi sembrava qualcosa di abbastanza interessante che sono convinto che la maggior parte di voi sarà in grado di apprezzare. Comunque ragazzi ho deciso di fare esplorazione oltre appunto per ottenere diamanti che potrebbero essere utili anche per il semplice fatto che onestamente un po' di esplorazione mi sembrava anche giusta da fare. Non so se dividerò questo episodio in due parti perché ho intenzione di esplorare il più lungo possibile però visti i tagli e visto il poco tempo che ho come già detto ultimamente per registrare dubito che appunto farò un episodio diviso in due parti. Quindi allora siamo abbastanza vicini all'isola a questo punto vi risparmio anche il resto di viaggio perché comunque sono pochi blocchi ed eccoci praticamente arrivati. Comunque ragazzi in questa zona c'è uno spawner di scheletri che potrei... no no dio dio non so mi ricordo neanche più se è di scheletri o se è di zombie ma comunque qua in giro c'è uno spawner che utilizzerò in futuro per fare una farm di esperienza onestamente adesso non ne ho... non ne ho motivo di farla perché comunque come potete vedere riesco a recuperare e a farmare esperienza abbastanza facilmente con l'aiuto della pesca quindi diciamo che non mi è per niente utile in questo periodo. Tra l'altro molti mi avete consigliato di fare una farm di pesca sto vedendo un attimino come poterle fare cercando di progettarne una anche se mi sa che mi dedicherò a cercare un tutorial online perché sto avendo dei problemi a progettarla. Comunque io mi ricordavo che questa zona fosse effettivamente modificata se così si può dire dal nuovo aggiornamento ma non mi ricordavo che ci fosse una spaccatura così diretta qua vicino quindi potrebbe essere una zona generata da nuovo update questa il che potrebbe rendere il tutto molto più interessante. Detto questo ragazzi per chiunque non sapesse come gestisco l'esplorazione cercherò semplicemente un attimino di vedere appunto i punti più interessanti e di condividerli con voi nel momento in cui andrò magari a trovare delle semplici spaccature o quasi questo tipo eviterò appunto di mostrarvi il tutto perché come potete immaginare sono delle semplici spaccature e non mi sono utili poi per appunto l'esplorazione in sé. In caso dovessi però trovare delle buone zone appunto sia da vedere che possibili zone di costruzione per il futuro vi farò vedere e sapere. Allora qua vedo una spaccatura che si dirige abbastanza in fondo quindi magari un'occhiata insieme a voi la do in quanto appunto come già detto sembra andare in fondo e potrebbe condurci in una caverna e volevo dire ragazzi che non raccoglierò il ferro principalmente perché come già detto in passato ho una farm di ferro che funziona veramente molto bene e onestamente prendere il ferro mi sembrerebbe soltanto uno spreco per l'utilizzo del piccone. Tra l'altro non ne ho bisogno ultimamente quindi andarlo a prendere quando c'è la farm che me ne sta producendo all'infinito mi sembra appunto una cosa non utile ed è per questo che mi dedicherò a non prendere il ferro. Allora di qua giusto per accelerare un pochino le cose mi metto l'elitra quindi mettiamoci un attimo l'elitra per scendere più velocemente ovviamente l'elitra finalmente gli ho messo il rammendo che sono andato a trovare in uno degli scorsi episodi potevo farmi meno danno e potevo anche evitare di mettermi l'elitra per fare una cosa del genere ma comunque allora qua sembra effettivamente andare giù in profondità tra l'altro molti di voi mi hanno fatto notare cosa che effettivamente già sapevo in parte che tende a utilizzare molte volte parole che finiscono in ente qua c'è raga raga a posto c'è una miniera onestamente non so come chiamarle perché molti voi chiamano miniere io le chiamo e molti altri le chiamano mineshaft io a me onestamente le chiamo miniere perché effettivamente sono delle miniere precostruite piccola cosa che ho notato dal nuovo aggiornamento che pure non ho notato in passato è che adesso praticamente la ghiaia rilascia delle particelle quando è sospesa in aria ovviamente se andremo a impiazzare dei blocchi qua vicino ci cadrà tutto non cade? ah no ecco che cade vedete lo sapevo io però appunto rilascia delle particelle quando è sospesa in aria visto che è un blocco affetto dalla gravità immagino che anche la sabbia faccia la stessa identica cosa allora di qua mi sono cosa? l'avete visto anche voi che mi ero incastrato nel blocco di te vabbè un po' di bug ci sono e poi vabbè con le nuove versioni di minecraft arrivano sempre anche nuovi bug dentro questo abbiamo trovato una miniera che è molto buona soprattutto perché ragazzi nella maggior parte dei casi i diamanti si trovano all'interno delle miniere tra l'altro mi servono anche delle rotaie perché potrei costruirle ma mi servono per una farm che ho intenzione di fare e che mi avete consigliato in molti e quindi raccoglierò anche le rotaie anche se poi dovrò andare a costruire anche altre perché appunto me ne serviranno un bel po' di vero non credo neanche troppe però meglio costruirne di più e poi tenerle per progetti futuri e devo dire che questa miniera per quanto interessante possa essere si sta rilevando un po' un fallimento perché non so se avete notato ma è principalmente vuota poi qua ho visto che c'è un minecart volevo un attimino controllare se di qua prima c'era un no spawner appunto per evitare di essere seccato mi sembra di vedere un altro minecart si infatti non ho visto male e quindi ragazzi diamo un attimino un'occhiata a questo minecart che contiene nulla come mai non contiene nulla ok allora ho paura di una cosa che potrebbe essere vera e questa cosa direi vero sono due ipotesi che mi sono appena venute in mente è la prima che potrebbe essere una miniera che ho già esplorato ma mi sembra strano ho visto che qua c'è un dungeon che non avevo mai visto prima il che rende già il tutto molto molto meglio no però no e l'altra cosa mi è venuta in mente che potrebbe essere un po' triste è che il nuovo aggiornamento è andato a cancellare praticamente tutti i materiali all'interno delle ceste se così è potrei veramente arrabbiarmi perché no ok non è così a posto quindi non è comunque stavo dicendo mi sarei potuto arrabbiare per il semplice fatto che mi sarebbe dispiaciuto perdere magari dei possibili oggetti comunque mi sa che è soltanto quel minecart che non contiene nulla a questo punto dato questo mi riempie un pochino l'inventario poi magari lo libero di schifezze che mi sono inutili tipo la pelle onestamente che non è troppo utile e abbiamo anche i semi di barbabietola non mi ricordo se li avevo già ritrovati in passato ma comunque la barbabietola può essere utile per fare altre farm anche se la farm di barbabietola è semplicemente la farm di grano soltanto che al posto di dare il grano appunto ai villager gli si dà la barbabietola ci deve essere qualche nuovo bug che fa cadere il giocatore all'interno dei buchi perché non so se avete notato ma ci sono già caduto più di una volta e qua direi che lo spawner di ragni lo possiamo anche distruggere perché tanto cosa è scoppiata perché comunque quello di ragni diciamo che è abbastanza difficile da utilizzare per fare delle mob farm quindi andremo magari a utilizzare o quello di scheletter che abbiamo appena trovato o magari un altro spawner in futuro concluso questo discorso sembra essere vuota quest'altra zona quindi direi di lasciarla un attimo stare comunque sono contento di aver trovato un dungeon perché in caso di problemi con altri spawner potrei tranquillamente tornare con questo e di qua ragazzi c'era un altro minecart al quale a questo punto diamo un'occhiata no i minecart sono stranamente tutti vuoti quindi credo che sia un bug che va a prendere soltanto i minecart perché sta zona ve lo giuro ragazzi non mi sembra di averla già esplorata però non si sa mai a questo punto direi è l'ora di andare a concentrarci più che altro sul ritrovare magari diamanti o cose di questo tipo che sono possibili da trovare in giro in quanto già scavati o semplicemente visibili al player cosa che potrebbe essere molto comoda questo ragno mi era dentro quindi muore il chifoso che mi dà un po' fastidio l'altro cosa mi dà abbastanza fastidio dei ragni non è tanto il fatto che appunto avvelenano ma il fatto che il veleno oltre che a causare danno causa anche rinculo al giocatore quindi ci fa perdere praticamente equilibrio se stiamo saltando cose di questo tipo che non è proprio una cosa bella comunque evitando il ragno che evitando il veleno che mi dà abbastanza fastidio direi un attimo di proseguire e non so per quale strano motivo ma all'interno di queste miniere vabbè si possono trovare soltanto questo tipo di spawner e poi magari collegare altri spawner ma onestamente se ne trovano molti cioè credo che sia dovuto al fatto che appunto lo spawner di l'animo sponi soltanto in questo tipo di dungeon e cose di questo tipo ma comunque è abbastanza strana come cosa allora queste stanze fatte con il terreno di terra me l'aveva spiegato un mio amico che cos'erano e se non mi sbaglio sono delle stanze che tecnicamente dovrebbero ospitare lo spawn degli slime in quanto gli slime se ci avete fatto notato come anche gli endermen no gli endermen no cosa sto dicendo vabbè comunque gli endermen e altri mob e gli slime compresi non dispongono di spawner detto questo credo che questa stanza sia appunto dedicata per far spawnare gli slime e ci sono delle stanze molto più grandi che potete andare a ritrovare in altre miniere mi è capitato di trovarne altre più grandi ma onestamente non ne capisco molto il senso visto che come potete vedere nella maggior parte dei casi non ci sponano degli slime qua sopra c'è un sistema grandissimo di incroci di miniera quindi dovrò stare attento a non perdermi perché è una cosa che faccio già spesso normalmente figuriamoci con il fatto che ci sono degli incroci in miniera qua la miniera sembra anche essere abbastanza baggata ovvero mi sa che si è mischiata con altre miniere che se guardate è molto più larga di ciò di quello che dovrebbe essere onestamente non mi dispiace neanche sono cose che comunque rendono carino un pochino di più l'esperienza di gioco in quanto è diverso da quello che potresti vedere normalmente in giro di qua invece vedo che c'è della lava e vedo che c'è ancora il bug dell'illuminazione che non permette la corretta illuminazione di zone che hanno una fonte di illuminazione più forte e hanno un'altra zona coperta beh qua se prendo fuoco non mi preoccupo neanche in quanto ho l'armatura praticamente con tutta protezione al fuoco ora di qua si prosegue in alto mi sembra di aver già dato un'occhiata però non abbiamo dato un'occhiata quindi devo segnarmi di esplorare questa zona e per farlo mi indicherò con un blocco di terra che questa qua è la direzione in cui devo andare dopo sempre se non mi perdo e lì c'è un altro minecart se anche questo minecart è vuoto ragazzi significa che il nuovo aggiornamento ha introdotto appunto questo bug infatti il minecart è vuoto che appunto va a svuotare il contenuto dei minecart quindi in essi non potremmo sperare nulla onestamente sono abbastanza convinto che sia un glitch questo qua per il semplice fatto che non mi ricordo questa zona che anche se l'avessi esplorata si vedrebbero delle torce in giro quindi la zona è nuova secondo il mio ragionamento e onestamente è una cosa abbastanza interessante allora dovrei avere altre torce nell'inventario no ok le ho già finite quindi dovrò andare a recuperare del carbone per poi trasformarlo in torce cosa che farò ovviamente off camera in questo preciso istante ma comunque ragazzi volevo dirvi una cosa un consiglio più che altro portatevi sempre dietro della legna quando andate ad esplorare perché come potete notare è difficile poi vabbè se siete in una miniera avete anche qualche blocco di legno che vi dà appunto la miniera ma appunto perché è difficile recuperare della legna quando si è in miniera e quindi vi può essere sempre comodo magari portarvi dietro dei blocchi di legna con il quale poi farvi i bastoni con i quali poi andrete a costruirvi orce che sono sempre utili quando siete magari in posti bui o semplicemente in posti dove non potete vedere bene quindi di qua vedo che c'è un altro spawner vorrei distruggerelo per evitare di essere avvelenato ripetutamente tra l'altro prima che me lo diciate ragazzi ne ho altri di spawner in giro quindi non preoccupatevi che non li finiremo quelli di ragni velenosi onestamente non mi renderebbe scontento vederli finti soprattutto perché si schifose ti saltano addosso anche quando sono in fin di vita ma comunque di qua la caverna si estende ancora di qua è tutto una zona no no basta mi fa schifo comunque stavo dicendo di qua la zona si continua ad estendere sembra un corridoio intero fatto di ragnatele cosa che onestamente mi dà abbastanza fastidio non è in realtà abbastanza corto però di qua ci sono delle zone che proseguono appunto della miniera è abbastanza interessante soprattutto per il fatto che questa zona non l'avevamo mai esplorata e che credo sia andata a generare dopo il nuovo aggiornamento quindi meglio per noi se è una zona effettivamente nuova e spero più che altro di andare più in profondità per trovare dei diamanti quindi adesso ragazzi mi dedicherò magari a separarmi un pochino di più dalla miniera per andare più in profondità ed effettivamente cercare dei diamanti carbone dubito che ce ne serva ancora poi in caso possiamo andarlo a recuperare tranquillamente perché di carbone ce n'è molto in giro io le ragnatelle le detesto vedo che devono ancora aggiungere comunque un sistema del combattimento ovvero la doppia mano io onestamente spero che la riescano ad aggiungere il più breve possibile perché ritengo che gli scudi siano tra gli oggetti più comodi Minecraft soprattutto perché sti cosi sti schifosi luridi ti attaccano da una distanza che non è mai fattibile cioè riescono comunque a colpirti quando sono un bel po' lontani ed è una cosa che già non è piacevole ricevere quando ti attaccano normalmente figuriamoci quando attaccano da distanza qua sopra sembra di esserci il continuo della miniera abbastanza glitchato quindi lasciamolo stare per ora e proseguirei da questa parte vedo che ci sono molti ruscelli d'acqua molti flussi d'acqua questa è un'altra stanza dedicata tecnicamente allo spawn degli slime ma come potete vedere non ce ne sono e volevo vedere più che altro se ci sono effettivamente degli sbocchi per andare in fondo ovviamente cercherò di illuminare il più possibile perché sennò voi non vedrete nulla di là vedo che comunque c'è anche della dell'altra ragnatella schifoso come hai fatto a salire che eri due blocchi più sotto e vi sto appunto dicendo che ho visto che ci sono altre ragnatelle là in fondo quindi ci sarà sicuramente un proseguimento della caverna ma voglio andare in profondità ovviamente di qua non ci sarà nulla perché il muro deve essere bloccato e qua vedo un collegamento con quello che potrebbe essere possibilmente un canyon ora vediamo un attimino se c'è dell'acqua là sotto sì quindi direi di potermi buttare sperando che effettivamente sia acqua e vedo zombie là c'è un sentiero di lava che si va a fondere con un sentiero d'acqua quindi andrà a fare appunto della della cobblestone qua vabbè seccatevi tra di voi che vedo che siete abbastanza amici voglio esplorare questa zona perché è interessante i canyon sono la mia zona esplorativa preferita dopo i villaggi se così si può dire perché comunque nei villaggi si ha sempre una grande possibilità di trovare magari smeraldi o cose di questo tipo anche diamanti e ossidiana che l'ossidiana cioè non è un minerale tecnicamente l'ossidiana perché è semplicemente la condensa che viene tra la lana e è la lana la lava e l'acqua so che condensa non è la parola giusta ma so di cosa sto parlando cioè fino a un certo punto so di cosa sto parlando e più o meno è quello che vi ho detto di qua sembra esserci un laghetto di lava ovviamente niente diamanti però comunque appunto sto dicendo per quanto strano possa sembrare l'ossidiana è buona da ottenere se non la si scava per il semplice fatto che l'ossidiana è un materiale che si scava con tanto tempo appunto per il piccone quindi conviene più che altro magari trovarla nelle scelte dei villageri che è una cosa più comoda che doverla andare a scavare a te crepa grazie che hai fatto anche un po' d'aiuto con lo scheletro che hai seccato in quanto ti aveva attaccato qua c'è dell'oro l'oro mi serve perché vi dovrò andare a costruire la farm di oro in futuro e onestamente come potete vedere devo andare a recuperare l'oro per ora e di qua ragazzi c'è uno spiazzo di lava vorrei evitare di finirci dentro però in caso dovessi vedere qualcosa di interessante potrei anche rischiarmi allora qua non devo piazzare assolutamente nessun tipo di torcia perché quella ghiaia lì sta per cadere onestamente non mi piacerebbe caderci insieme di qua però c'è dell'oro che a questo punto vado a recuperare stando attento a non spercarlo gradirei trovare dei diamanti perché siamo venuti qua per quello in quanto ci mancano effettivamente dei diamanti all'interno del mondo però comunque in caso dovessi trovarli li utilizzerò senza farmi troppi problemi per appunto andare a crearmi gli oggetti e i pezzi di equipaggiamento mancanti tra l'altro devo mettere durezza su questa spada perché purtroppo si consuma abbastanza facilmente ed è una spada abbastanza forte quindi devo anche trattarla bene e qua c'è un pipistarello che dorme guardate che carini non sono molto facili da vedere i pipistarelli che dormono essenzialmente credo che sia anche una delle mie prime volte che ho visto un pipistarello appoggiato in funzione di riposo allora qua non c'è nulla anzi direi che siamo in fondo al canyon e di qua c'è un po' di pietra rossa là mi sembra di aver visto qualcosa interessante no direi vero è la cobblestone che è andata a generare con contatto con la lava di qua vedo soltanto del ferro di là ho visto della pietra rossa che adesso vado subito a recuperare e beh a parte per la pietra rossa direi che questa zona è abbastanza vuota andrò a recuperare anche quella là sopra ragazzi a questo punto mi sa che recupero un po' di pietra rossa do un'occhiata in giro e poi vi faccio sapere se vedo qualcosa di interessante ah tra l'altro ragazzi se voi magari vedete dei diamanti nel video vi prego di farmelo sapere nei commenti perché comunque ogni tanto mi scappa l'occhio schifoso tu che ti nascondi dietro la cascata comunque stavo appunto dicendo se vedete magari dei diamanti che io non vedo fatemelo sapere perché purtroppo non ho l'occhio buono quanto li odio degli scheletri dopo un nuovo aggiornamento e appunto fatemelo sapere che potreste veramente darmi una mano soprattutto con la ricerca di diamanti io però adesso ti secco cioè volevo fare un attimino un po' pacifista però sempre sulle palle allora evitiamo un attimino di dare troppa retta agli scheletri di qua non so se riesco a saltare vabbè sì è normale parkour purtroppo col parkour non me la cavo molto bene l'abbiamo anche visto in passato ma comunque qua non vedo diamanti quindi direi un attimino di andare ad esplorare da questa parte di qua ok si prolunga la caverna quindi ho fatto anche abbastanza bene ad andare da questa parte e di qua c'è uno slime che come potete vedere non è andato a spawnare in quelle zone prestabilite per lo spawn di essi comunque andiamo a distruggerlo perché potrebbe essere utile recuperare anche delle slime board per andare poi a costruire altri pistoni appiccicosi per le prossime farm che comunque sono molto utili ragazzi i pistoni appiccicosi credo anzi che siano forse uno dei blocchi più utili all'interno di minecraft ora lo scheletro c'è dietro sì ma non ci sta dando troppo fastidio quindi grazie che ti piacerebbe non mi dava fastidio prima o adesso allora stavo appunto dicendo qua c'è della ghiaia vorrei evitare di farmi seccare dalla ghiaia quindi ciao bello salutami casa non sei morto ora sì e a questo punto ragazzi mi sa che recupero altro carbone perché sto finendo le torce di nuovo e do un'altra occhiata in giro e se non trovo nulla mi sa che ci toccherà tornare a casa senza diamanti devo dire che l'esplorazione non è stata neanche troppo male perché abbiamo trovato i semi di barbabietola che se non mi sbaglio non avevamo il che potrebbe essere interessante però comunque diciamo che se in caso dovesse trovare diamanti sarei appunto un pochino più contento perché sono più rari da trovare sono soprattutto più utili per fare oggetti duraturi detto questo devo dire che gli oggetti in ferro con efficienza e durezza sono molto buoni quindi in caso non dovesse trovare diamanti continuerò con questo stile appunto di utilizzo minerali grazie schifoso e vedrò un attimino appunto cosa fare di qua vedo che non c'è no anzi c'è il collegamento con la vecchia caverna a questo punto ragazzi mi sa che do un'altra occhiata in giro in caso dovessi perdermi qualche collegamento ragazzi do ora un'occhiata io stesso al video e vedrò un attimino appunto che tipo di collegamenti erano perché purtroppo avendo dato un'occhiata anche off camera so magari dove portano alcuni collegamenti e magari potrei andare tornare ad esplorarli ovviamente non credo di fare una cosa del genere però è nel dubbio guarderò per appunto vedere se ho saltato qualcosa ma più che altro ho già esplorato la maggior parte di questa zona non ho visto nulla c'ho enderman tu mi sei simpatico quindi non ti attaccherò a dire vero gli enderman sono i miei mob preferiti il problema è che se li guardi un po' troppo sopra il collo ecco si innervosiscono abbastanza quindi adesso ti secco mi spiace però cioè sei tu che sei violento quindi ci posso far nulla detto questo una volta mi sono preso un infarto per colpa di un enderman non so se lo ricordate mi sembra anche che fosse tipo tra uno dei primi episodi della vecchia serie mamma mia bei tempi però comunque appunto mi sono preso un infarto per gli enderman ma al contrario degli scheletri continuano a rimanere i miei mob preferiti allora adesso mi faccio anche delle torce che mi potrebbero essere utili ovviamente non me ne faccio troppe perché troppe torce poi diventano inutili altro che utili e a questo punto sfrutto è bello stavo costruendo bene le torce sfrutto più che altro il carbone appena raccolto per farmi delle torce allora di qua non prosegue nulla di qua forse ma ne dubito fortemente anche se un'occhiata potrebbe servire a darla ma invece mi sa che prosegue ma non per tanto e andiamo comunque un'occhiata per sicurezza anche se mi sa che ecco come potete vedere qua non si va avanti allora ragazzi a questo punto do un'altra occhiata dove sono stato fino ad ora cercando di vedere se c'era qualche collegamento che non ho guardato con altre parti della caverna tipo qua sotto qua sotto c'è della no c'è dell'ossidiana non è non c'è una spaccatura e ragazzi do anche un'occhiata sott'acqua per vedere se effettivamente si nascondono dei diamanti cosa che mi è già successa in passato e che poi è rivelato dei diamanti anche utili gli scheletri li odio ti prendono da qualsiasi distanza e sono fastidiosi quindi a questo punto ragazzi ci vediamo di nuovo tra poco comunque sto cominciando a pensare che l'acqua credo sia seriamente il problema più grande nelle caverne neanche tanto la lava che può uccidere o così questo tipo ma guardate la l'acqua cioè spinge da fastidio non è utile se non magari per togliere un po' di lava qua ho trovato anche della reason quindi mi è andata abbastanza bene mi dà fastidio onestamente trovare dell'acqua in miniera non peraltro ma perché come potete vedere rende più difficile l'esplorazione potrebbe nascondere possibili minerali preziosi sotto di essa che è abbastanza fastidioso soprattutto per coloro che magari sono daltonici e non riescono a distinguere bene i colori che è una cosa abbastanza noiosa detto da un daltonico ovviamente non sono fortemente daltonico quindi riesco a distinguere magari un colore che è un pochino più distinto rispetto a quello sopra il quale si trova ma in caso dovessi trovarmi per esempio dei lapislazioni sotto l'acqua non li noterò mai per il semplice fatto che i lapislazioni l'acqua credo che abbiano lo stesso identico colore e per questo faccio fatica a distinguere qua c'è della ghiaia ovviamente perché deve anche aggravare le cose di come già sono ti prego dimmi che non ce n'è no invece ce n'è sicuramente altra che di ghiaia non se ne trova mai da sola anche se effettivamente sembra essere poco fastidiosa voglio dare un'occhiata di qua perché è uno di quegli sbocchi che di solito mi ha fatto trovare diamanti in passato quindi spero nella fortuna appunto sperando anche di trovare dei diamanti per vedere se c'è qualcosa qua in giro il piccone funziona molto molto bene quindi sono contento di essermi portato dietro questo piccone anche se ragazzi mi sa che questa spedizione sarà a vuoto però vabbè dai comunque abbiamo ricavato un po' di materiali soprattutto i semi di barbabietola che credo appunto di non aver avuto in passato comunque fino ad ora di là però ragazzi vedo le sponde di un'altra caverna che potrebbe rendere il tutto molto più interessante quindi vado un attimino a dare un'occhiata allora di qua ovviamente devo andare comunque a scavarmi un tunnel artificiale per dare un'occhiata alla caverna ma mi sa che comunque ragazzi questa caverna fa un po' cilecca e credo anche che sia un collegamento con la caverna precedente quindi mi sa che nulla di nuovo ma invece no parzialmente perché di là ci sono stato prima di qua invece mi sa che non c'è nulla di interessante io comunque un'occhiata gliela do ma mi sa proprio di no ragazzi eh mi dispiace essere così pessimista ma purtroppo di lì cosa c'è di blu l'acqua ovviamente vabbè cado ma fa niente fortunatamente dispongo dell'armatura buona ragazzi mi raccomando fatevi dell'armatura sempre con con protezione dal fuoco per andare in miniera che come potete vedere è molto utile per non prendere danni e soprattutto per appunto evitare di crepare quindi evidentemente lì c'è dell'oro che voglio andare subito a recuperare comunque l'oro mi serve come già detto in precedenza qua purtroppo un po' di redstone la perderemo ma fortunatamente siamo messi abbastanza bene con la redstone a casa quindi anche se ne perdiamo un pochino in miniera non dovrebbe essere troppo un problema lì ho visto qualcosa e l'usurino no è andesite peccato allora ragazzi a questo punto recupero l'oro mi dirigo in superficie se trovo qualcosa vi interrompo perché altrimenti mi sembra inutile proseguire l'esplorazione così di analisi insieme a voi per poi semplicemente allungare l'episodio e renderlo magari un pochino più noioso da vedere quindi ragazzi a questo punto do un'occhiata di mio mentre ritorno e in caso dovessi trovare qualcosa interessante vi interrompo quindi ci vediamo tra poco ok ragazzi ho trovato una strada per tornare in superficie ovviamente abbiamo l'accompagnatore quindi grazie l'accompagnatore non so effettivamente dove sono sbucato quindi spero di essere dove sono no asseramente dove sono finito allora mi ricordo qualcosa mi sembra che no ok siamo anche abbastanza vicini stavo scherendo no dove siamo allora lì c'è un villaggio e il che mi fa pensare che potremmo essere vicini al villaggio dove prima ho visto la strana montagna e quindi potrei sapere dove siamo no infatti mi sa che siamo vicino no ok è quel villaggio ho confermato però essendo entrati da là essendo usciti da qua onestamente abbiamo fatto un giro un po' strano non chiedetemi che tipo di giro perché non lo so nemmeno io a questo punto ragazzi volevo anche dare un attimino un'occhiata ai villaggeri che ci sono qua in giro per vedere quali potermi portare nella farm di villager che farò a breve anche quella onestamente credo più che altro di andare a prendere magari i villager che ho dietro casa in quanto sono più comodi da andare a recuperare tu dammi gli smeraldi brutto tirchio che comunque sono tre smeraldi buoni recuperati col carbone e onestamente spero di ottenere dei buoni villager appunto dalla farm di villager che andremo a fare spero di trovare più che altro dei librai perché con la farm di carne da zucchero andranno a funzionare egregiamente però comunque dovremo vedere più che altro cosa poter fare una volta che andremo a recuperare appunto i villager con la farm di villager a questo punto ragazzi torno nella stanza degli iscritti e rispondo alle vostre domande come faccio in ogni episodio comunque vi ringrazio per aver apprezzato anche questo episodio di esplorazione anche se magari preferite la costruzione ma purtroppo ogni tanto l'esplorazione ci vuole e onestamente preferisco l'esplorazione qua in giro c'è una lurida strega che continua ecco appunto a fare versi quindi prima di fare le domande e cose varie no 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 tu basta dar fastidio a posto bene perfetto molto bene e rieccoci ragazzi nella stanza degli iscritti dove fortunatamente sono riuscito a tornare senza troppi problemi allora ragazzi la domanda di oggi ce la fa Ken Kaneki il quale mi chiede domanda per Reaper Andrea che scuola fai che lavoro ti piacerebbe fare e cercherai di portare avanti il canale anche se ti dovesse succedere qualcosa allora grazie per la domanda Ken allora volevo innanzitutto dire che sto facendo il liceo scientifico delle scienze applicate semplicemente il liceo scientifico con un'ora in più di fisica e informatica se non mi sbaglio e ho intenzione di fare o l'ingegnere o lo psicologo l'ingegnere per il semplice fatto che mi piace progettare come la maggior parte che voi potrà immaginare e lo psicologo per il semplice fatto che mi piace aiutare gli altri magari semplicemente andare a capire cosa si cela dietro il pensiero dell'uomo semplicemente appunto vedere cosa può causare disturbi o semplicemente fastidi o emozioni o stati psicologici abbastanza interessanti da vedere appunto so che posso sembrare molto complicato e strano ma onestamente è una delle mie passioni più grandi quindi mi sembra anche giusto dirlo in quanto è una domanda che mi ha posto comunque per quanto riguarda invece la parte in caso che mi dovesse succedere qualcosa continuerò a portare avanti il canale allora ho intenzione di portarlo avanti lo stesso perché comunque il supporto che mi date è enorme onestamente mi dispiacerebbe deludervi e abbandonarvi tutti così da un momento all'altro per il semplice fatto che mi è successo qualcosa e onestamente immagino che anche se mi dovesse succedere qualcosa di qualsiasi tipo mi aiutereste e mi capireste quindi onestamente confido in voi e onestamente mi sembra anche giusto portare avanti il tutto perché come voi portate rispetto per me mi sembra anche giusto che io porti rispetto per voi quindi cercherò di continuare così tutto grazie Ken Kaneki per la domanda che era comunque una domanda molto interessante ed è davvero molto bella anche qua fuori c'è un creeper ed è per questo che sto cercando di non uscire comunque ragazzi io come sempre voglio ringraziarvi per la visione mi raccomando se questo video vi è piaciuto mi raccomando fatelo sapere con un bel mi piace che oltre ad aiutare me la serie aiuta anche il canale in grandissima maria e ragazzi mi raccomando fatemi sapere come in ogni episodio le vostre idee che probabilmente andrò a costruire nel prossimo episodio mi raccomando ragazzi consigliatemi idee originali e più che altro magari semplici e fattivi da fare per il semplice fatto che appunto voglio dare i crediti a qualcuno con un'idea originale perché sennò devo soltanto aggiungere la prima persona che mi ha consigliato magari un'idea che poi mi consigliate in tanti io comunque ragazzi come sempre voglio augurarvi una buona giornata una buona serata e mi raccomando ragazzi appunto fatemi sapere le vostre idee ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti